Musica Amici sportivi, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento con Bordogambo Serie D. Come sapete parleremo del campionato di Serie D Gironi G dove ci sono squadre laziali e squadre sarde. Vi ricordo il nostro numero per inviarci i vostri sms è 331 12 45 625 oppure twitter chiocciolateleuniverso.it oppure hashtag Bordogambo Serie D. Insomma da tutte le parti potete inviarci i vostri messaggi, noi li leggeremo in diretta con un ospite veramente gratuito. Un personaggio veramente importante che si sta dando veramente da fare in questo periodo, lo ha fatto in precampionato con degli acquisti molto importanti. La sua squadra sta andando veramente forte in queste due partite che si sono giocate. Sto parlando di Luca Fardelli, direttore generale dell'Isola di Ricalcio. Luca buonasera e benvenuto alla nostra trasmissione. Secondo appuntamento per quanto riguarda la Serie D, come dicevo prima, parleremo del campionato di Serie D, parleremo dell'Isola di Ricalcio, parleremo del Sora, di questo Terracina, di questo Fondi, insomma di tutte le squadre che fanno parte del campionato di Serie D, Girone G. Però non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante, no? Un giocatore sorano che ha giocato ad Isola Liri, ieri sera l'abbiamo visto giocare con la maglia della nazionale. Zappacosta, figlio di Roberto Zappacosta, una cosa veramente molto molto bella e ci fa onore e piacere averlo visto indossare appunto la maglia della nazionale. Eh sì, innanzitutto buonasera a tutti e vi ringrazio per l'invito. È chiaro che avere un altro giocatore nelle nostre zone, vederlo calcare i campi importanti, fare una presenza nell'Under 21 per tutti i 90 minuti, per noi deve essere un motivo di orgoglio, non si smendisce il nostro territorio a dei giocatori importanti. Ricordiamo Sora e Isola Liri e poi adesso è in forza a Lavellino, Lavellino che sta sicuramente giocando un ottimo campionato, primo in classifica. Speriamo che anche Zappacosta dia il suo contributo per la promozione di questa squadra. Allora, andiamo subito a vedere insieme Luca i risultati con la relativa classifica del campionato di Serie D Girone e G con l'aiuto della regia. Diamo anche un'occhiata alla classifica, una classifica che piano piano si va delineando. Comanda l'Olbia con due vittorie, con sei punti, segue il Budone, l'Isola Liri, il San Cesario e il Palestrina a quattro punti. A tre punti troviamo Luparoma, Sora, Terracina, Maccarese, Giada, Fondi e Astrea. A due punti Latte Dolce a un punto. Anzio Lavigno, Selargius, Nuova Santa Maria delle Mori, Arzachena e poi Cinzia e Porto Torres a zero punti. Una classifica che dicevo Luca che piano piano si va da enigliando, sicuramente si vede il discorso di questa squadra che secondo me poi alla lunga verrà fuori. Quest'Olbia è una squadra molto blasonata, una squadra che ha dei giocatori molto importanti. Non a caso è prima in classifica. Beh sì, è chiaro, l'Olbia era nei piani, nelle previsioni che avrebbe condotto un campionato di vertice, così come San Cesaro e Terracina sono altri due ottimi organici. Luparoma è un'altra squadra che a mio avviso è una delle pretendenti alla vittoria finale. È chiaro che siamo ancora fermi alle due giornate, per cui ancora è presto per fare delle previsioni importanti. Questo girone è composto da Laziale e Sarde, sono sei le Sarde, è molto il discorso dei trasferimenti che si devono fare in Sardegna. Però è sempre un piacere andare in Sardegna, no? Sì. Forse non ci sono le campane, secondo te è meglio o peggio? Allora, per un discorso di girone, di calcio è meglio. Le campane sappiamo tutti che sono anni a questa parte, c'è sempre la campana che comunque poi il campionato lo vince, per cui è stato così per qualche anno. È chiaro che andare in Sardegna è una spesa ulteriore per la società, questo aggrava le casse societarie, però dal punto di vista calcistico è chiaro che siamo obiettivi tutti quanti. Questo girone è molto più facile rispetto a quello dell'anno scorso. Molto tranquillo. E poi quest'anno questa possibilità veramente ghiotta dalla serie di passare direttamente in terza serie, in serie C? Sì, adesso si sta sognando per quanto ci riguarda noi come Isola Liri, l'obiettivo è semplice, non abbiamo fatto proclami, l'abbiamo detto sì dall'inizio. La nostra è stata una squadra costruita per una salvezza tranquilla, con giocatori noti, ma soprattutto tanti ragazzi. Per cui l'obiettivo rimane anche oggi, perché sono appena due partite, è vero che abbiamo fatto una vittoria e un pareggio, quindi perfettamente in crisi, però non illudiamo nessuno e non facciamo proclami nessuno. L'obiettivo nostro è una salvezza tranquilla e oltretutto abbiamo il dovere morale, visto che l'abbiamo detto a chiare lettere, io, il mister e tutta la proprietà, che vogliamo far divertire la gente che viene allo stadio. Domenica è stato già un banco di prova importante in casa, davanti a una cornice di pubblico, stiamo parlando di circa 800 persone, spettatori, è vero pure che c'è stato il fermo delle campionate di Serie A, però è pur vero che davanti a 800 spettatori posso assicurarvi che la gente si è divertita. Al di là del risultato, la squadra ha dimostrato che ha una sua anima, ha un suo condottiero che è il mister, il mister Grossi. Tutti quelli che hanno giocato domenica, nonostante la formazione sia stata cambiata, per quattro undicesimo è stata cambiata rispetto a domenica a Cinzia, comunque chi ha giocato non ha fatto sentire l'assenza di quelli che hanno giocato la domenica prima. Per cui è un gruppo eccezionale, mi auguro che continuino a lavorare come stanno facendo, ma sono anche convinto che grazie alle doti da grande mister, quale lui, saprà trasmettere la giusta carica emotiva a tutti i ragazzi. Questo sicuramente Luca, perché è un allenatore che si fa sentire sia negli spogliatoi ma anche in campo. E poi quest'anno ha fatto delle scelte molto importanti, prendendo dei giocatori, i fratelli Poziello, prendendo un certo Caligiuri. E poi mangava questa ciliegina sulla torta lì in difesa. L'Isola Lidia ha preso un certo giocatore che si chiama Ernesto Terra, non l'ultimo arrivato, un giocatore che fino a qualche anno fa giocava ad alti livelli. E per una difesa, voglio dire, avere Ernesto Terra lì dietro, anche per il portiere, è una grande sicurezza. Tu dicevi che pensate ad una salvezza, però con questa squadra voglio dire sì, la salvezza, ma si può pensare ancora in qualcosa di molto di più avendo una squadra con una difesa così, avendo un buon centrocampo, ma soprattutto anche un attacco come, ripeto, Caligiuri non è l'ultimo arrivato, è un giocatore che quando decide di mettere la palla dentro la mette, non è che scherza. Io sono abituato a vedere in casa nostra ed è vero che abbiamo ingaggiato Ernesto Terra che due anni fa stava facendo la C1, però è anche vero che noi pensiamo a noi, il nostro obiettivo, ripeto, mi fa piacere quello che hai appena detto, perché stai apprezzando quello che stiamo facendo e anche addetti a lavori stanno apprezzando il nostro lavoro. Però è chiaro pure che noi non ci possiamo nascondere dicendo no, vingiamo il campionato oppure ci salviamo solo per una questione così di scrupolo. Noi diciamo semplicemente che la nostra intenzione, quello che ci ha chiesto la proprietà, è quello di ottenere una salvezza tranquilla. È chiaro che se stiamo lì, il nostro obiettivo a breve e medio termine, come tutte le società, come tutti i direttori sportivi e generali fanno in tutte le categorie, è quella di fare un primo bilancio al fine novembre e inizio dicembre. È lì che si inizia un'altra frase di programmazione. Per cui oggi non me la sento di dire, di fare programmi che poi potrebbero smentirmi. Stiamo appena alla seconda giornata, stiamo lavorando bene, la squadra si sta amalgamando nel migliore dei modi, il mister sa quello che vuole e quello che fa. Voglio dire, non serve Luca Fardelli a scoprire Sandro Grossi, attenzione. Però è chiaro pure che noi abbiamo messo in campo tutto quello che erano le nostre possibilità. E di questo io devo ringraziare la proprietà, la proprietà dell'Isola Liri. Perché se io sto qui oggi è perché c'è una proprietà alle spalle. La proprietà che nelle persone di Signor Di Folco, Luca Bianchi e Ennio Quadrini stanno facendo sì che noi possiamo lavorare nel miglior modo possibile. Insomma, l'Isola Liri viaggia a braccetto anche con il Sora che ha pareggiato 1-1. Anche il Sora ha messo su un bellissimo organico, ha cambiato tutta la società. Insomma, una squadra che gioca abbastanza bene e ieri ha giocato anche con 5 Hunter. E poi ha un grandissimo portiere, Agostini, che secondo me è uno dei migliori di questo girone. Un portiere che ha fatto vedere delle cose veramente straordinarie, Luca. Allora sì, questo degli under, a mio avviso, questo girone, ci sono degli under interessantissimi. Parlavo con qualche responsabile rappresentativa degli under di Serie D, il quale mi ha confermato che questo girone è ricco di under interessanti. E' chiaro, il Sora non lo scopro io, è guidato da un ottimo allenatore, ma altrettanto ottimo direttore sportivo. Ho avuto modo di sentirlo in trasmissione. Sì, tanti, sì, Claudio è una persona veramente molto molto brava e sa il fatto suo in questa categoria. Ed è competente, per cui è chiaro che sotto la guida di un bravo allenatore, un bravo direttore, come lo sono loro, io credo che il Sora reciterà un ruolo da protagonista quest'anno. Sei d'accordo con me che gli under faranno una differenza in questo campionato? Positiva e negativa. Certo, sì, perché magari possono sbagliare, però possono azzeccarsi delle partite in una certa maniera. Perché diciamo che ci vuole anche un po' di esperienza qui, un po' di esperienza, ma soprattutto ci vuole quel mix tra il giocatore, diciamo, vecchio, tra virgolette, che non è vecchio, e il giocatore giovane che deve, il giocatore vecchio, tra virgolette, deve fare da chioccia praticamente a questi giocatori che la Lega ha imposto di far giocare. A proposito, un'altra cosa volevo dire, Agostini è molto bravo, ma ha un maestro molto bravo che si chiama Vittorio Mollo, un preparatore dei portieri che secondo me è unico in questo girone. Un portiere lo è stato, ma è un uomo, prima di essere uno sportivo, voglio dire, riesce a fare delle cose veramente incredibili. Allora, il mister Mollo, innanzitutto lo saluto, se ci sta ascoltando, sicuramente ci sta ascoltando, intanto lo saluto e gli faccio il mio mio in bocca al lupo. Purtroppo le nostre strade per vari motivi non si sono incrociate, perché ve lo dico… Sì, io sapevo che fino all'Illì stava ad isola praticamente. Sì, poi sono successe alcune vicissitudine non dipese né da me, né da lui, né da nessuno, per cui le nostre strade sono divise, diciamo, speriamo che in un futuro. Anche perché so che anche il mister Grossi lo apprezza tantissimo. Dicevo il discorso degli under, fanno una differenza in positivo e in negativo. Dicevi anche del giovane del Sora, però non dimentichiamo che anche noi ci stiamo mettendo del nostro. sono due partite che gioca titolare Zeppa che è 96, per cui non si mette in campo un 95, non perché non si voglia mettere, ma in un ruolo… Zeppa sono due partite che gioca titolare e è un 96. Certo, e da quell'impronta alla squadra non ha certamente… Ma io l'ho detto anche la settimana scorsa, ma l'ho detto anche nel corso delle altre trasmissioni che abbiamo fatto qui a Teleuniverso, quando un giocatore è bravo o under, o si fa giocare tranquillamente. Deve giocare. Deve giocare tranquillamente. Prima di andare a vedere il servizio servizio raditi, hanno già mandato qualche messaggio, praticamente già abbiamo letto con la coda dell'occhio qualche messaggio che hanno mandato gli amici da casa e leggevo, se non sbaglio, Luca Fardelli riesce a portare persone allo stadio. No. Lo vogliamo rivedere perché non so se l'ho letto un po' di sfuggita, però se la regia ce lo può riproporre. Allora, a meno che non sia mio fratello, a meno che non sia mio fratello… Dicevi 800 persone, voglio dire, sarà anche merito tuo di aver lavorato in una certa maniera per portare queste persone allo stadio? No, 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 assolutamente no, a meno che, vi ripeto, non sia qualcuno della mia famiglia che mi possa fare un complimento del genere, questa cosa non è assolutamente così. La vera forza di una società è tutto, dalla proprietà, dai dirigenti, dai magazzinieri, dalla squadra, è un mix che se noi continuiamo così, vi ripeto, è chiaro una cosa, che l'entusiasmo a Isola Liri si nota, questo è vero, si nota, però è chiaro, non potrei mai essere una singola persona che porti tanta gente allo stadio. Sicuramente, ne stanno arrivando tanti e tra uno c'è anche che praticamente chi ha fatto esordire in Serie C, se non sbaglio, è stato appunto Sandro Grossi con Zappagosta. Esordì nel 2011, se non sbaglio, a Isola Liri. Bene, allora adesso dopo aver parlato un po' di tutto, naturalmente per quanto riguarda il campionato di Serie di Girone G, andiamo ad approfondire questo discorso con Isola Liri, andiamo a vedere il servizio. Isola Liri riparte dal Nazareth dopo la vittoria pesante di Genzano. Grossi aveva preannunciato che questa squadra avrebbe disputato un ottimo campionato. Dopo la partenza sprint contro il Cinzia, è tempo per i biancorossi di battezzare le muramiche a suon di punti. Il tecnico ha a disposizione per la prima volta in stagione l'ex Sora Ernesto Terra, ultimo grande acquisto del DS Luca Fardelli, mentre paga l'assenza di Saracino, espulso sette giorni fa. Scalpitano in attacco Giglio, Graziani e Poziello da una parte, Romacci, Siclari e Del Vecchio dall'altra. Parteforte è l'Isola Liri, calcio di punizione al primo, Poziello per poco non trova le misure, episodio dubbio poi al sesto, Del Vecchio lanciato verso Caldaroni lo salta e finisce a terra, per il signor Barrella però è tutto regolare. Ci prova Siclari per il San Cesario al diciassettesimo, conclusione a botta sicura che non inganna Caldaroni, bravo a restare lucido. Due minuti più tardi è Berardi sul fronte opposto, a sfondare sulla sinistra, parabola al bacio per Poziello che però finisce col servire Matera. Al trentatreesimo bel cambio di gioco di francese, Graziani fa da sponda per Poziello che però si defila sul fondo e conclude direttamente sul palo esterno. Due minuti più tardi è l'episodio che deciderà il primo tempo, Romacci pensa e realizza la parabola che da 35 metri si infila sotto la traversa. Ovazione per il numero 10 rosso-blu che sblocca la gara e si prende gli applausi dei compagni. La prima frazione si chiude allora sull'1-0, tutti a riprendere fiato, si riparte con gli stessi 11 dopo l'intervallo. Ottavo minuto, Caligiuri appena entrato, intercetta il lancio di Poziello, conclusione di prima intenzione, Matera devia sopra la traversa. Pochi giri di lancette e ecco servito il pari, Galluzzo atterra Graziani in area e per il direttore di gara stavolta non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto va Ciro Poziello che serve ai suoi l'1-1 meritato, finale in affanno per le due formazioni in campo. Pesano le gambe, chi alla meglio sono i più freschi, ci prova Paris al ventunesimo con un traversone basso che rischia di ingannare Caldarone. Ben più pericoloso Jukic, subentrato a Giglio, azione personale dell'attaccante isolano al quarantaduesimo che si lascia alle spalle l'intera difesa rosso-blu per poi arrendersi allo sguardo di Matera, lasciando nella disperazione compagni e tifosi. Non basteranno i tre minuti di recupero a cambiare le sorti della gara. L'Isola Liri chiude con un pareggio e si rilancia agli occhi del campionato. Questa è una squadra che sta realizzando in corso il proprio valore e Grossi lancia la carica per la trasferta di Selargius. In Sardegna si andrà per vincere. Luca, un 1-1 con tanto Amaro in bocca, però, per quello che abbiamo visto le immagini. Sì, come è andata la partita? Sai, Amaro, comunque è stata una partita bella, è stata una bellissima partita. È chiaro che se vincevamo eravamo tutti più contenti, però la prestazione è stata una prestazione importante, da parte di tutte e due le squadre. È chiaro che la vittoria per noi ci poteva stare, però, ripeto, abbiamo affrontato una grandissima squadra che secondo me se la giocherà fino alla fine per la vittoria del campionato. Gente di categoria, sono tre anni che giocano insieme, panchina importante, per cui è una formazione che a mio avviso darà filo da torcia a tantissime squadre. Secondo me se la giocherà fino alla fine per la vittoria del campionato. Bene, vogliamo andare ad ascoltare Grossi che ha parlato anche di mercato in questa intervista. Abbiamo detto dall'inizio che volevamo recitare un campionato di giocare bene. Poi è chiaro, se giochi bene poi la domenica nemmeno perdi, no? Giusto? Se giochi bene fai risultato. In questo momento Risualdiri sta giocando bene. Con l'acquisto di Terra e l'altro ragazzo che purtroppo all'ultimo momento è mancato per un infortunio, secondo me la squadra è ancora aumentata di tasso, insomma a livello di tasso tecnico è importante, ma soprattutto a Terra perché lui è un giocatore di spessore, intelligente, di categoria, uno che ha 300 partite in Serie B, insomma è una Z di scudo. Però anche gli altri hanno giocato bene, ad esempio c'è Jukic che è entrato, che ha avuto una grossa occasione, lo stesso Caligiuri domenica ha fatto gol, Gilles che secondo me è un grosso attaccante. Io penso che secondo me Risualdiri deve giocare bene e secondo me può recitare un campionato di livello. Si dice che l'entusiasmo arriva con le vittorie, prima quella contro il Terracena, poi quella contro il Cenzia, vi state accorgendo pian piano del valore della vostra squadra? Sì, l'hai detto bene, le vittorie portano entusiasmo, portano bene insomma, è chiaro ci stiamo settimanalmente sia negli allenamenti che la domenica, ci stiamo accorgendo che forse possiamo diventare una squadra importante. E domenica prossima in Sardegna? Ma noi andiamo sempre per vincere, speriamo di poter vincere anche lì. Devono finire tutte con la vittoria per Sandro, le partite sicuramente è così, è veramente un allenatore che ce la mette tutta e questo è bello perché dà quel senso importante ai giocatori, quel senso di vittoria, di non arrendersi mai, di combattere fino sull'ultimo pallone e questo ti dà quella carica giusta magari se sei un po' giù. Guarda, io dico la verità, Sandro lo conosco da una vita, ho il piacere quest'anno di poterci lavorare insieme per la prima volta. Io so che tipo è lui, so che lui da ogni singola persona, da ogni singolo giocatore riesce a ottenere il massimo. Se avete notato Caligiuri, i nomi che ha fatto la giornalista, sono tutti giocatori di calcio di un certo livello e comunque con lui stanno dando il massimo, gente che entra e poi non so se avete notato la cosa che poche volte ho visto, che ogni volta che si fa gol ogni giocatore che segna lo vada ad abbracciare. Questo è importante perché fa capire proprio che cosa stiamo cercando di creare, ma in primis lui che poi lui lavora sul campo, per cui lui i ragazzi, per cui queste qui sono segnali che danno una certa percezione di come si sta procedendo, poi è chiaro i risultati stanno aiutando, quello sì, sono tre partite, due vittorie e un pareggio, è chiaro che ecco, è emblematico questo. Luca, possiamo dire che quest'anno con questa nuova proprietà, con il nuovo direttore generale, non il nuovo allenatore perché è una vita che Sandro è a Isola, è iniziato quest'anno zero per l'Isola Liri? Sì, da un certo punto di vista credo di sì, ci sono tutti i presupposti affinché si creano le basi per un discorso futuro, in effetti è quello che dicevo prima, noi non ci è stato chiesto né la vittoria né niente, noi ci è stato chiesto di un discorso di valorizzazione dei giovani, domenica avete visto, abbiamo chiuso la partita in 6 under, per cui stiamo cercando di soddisfare quelli che erano i presupposti iniziali, è chiaro che se ci riusciremo il merito sarà suddiviso in parte uguale a tutti quanti, se non ci riusciremo insomma ci abbiamo provato. Adesso ci trasferiamo un po' nella provincia di Latina, due vittorie per Terracina e per Fondi, il Terracina sappiamo che non gioca a Terracina ma gioca al Tasciotti di Sezze, questo 2 a 0 al Santa Maria delle Mole è un 2 a 0 che è molto significante secondo me. Allora sì, io il Terracina l'ho visto in Coppa Italia, in una partita al Nazareth. A proposito, ma che cosa è successo in quella partita? No, in quella partita niente, niente, è successo. È successo qualcosa, avete vinto la partita sul campo e poi ve l'hanno tolta praticamente. Sì, in effetti abbiamo sbagliato. Sbagliare secondo me è umano, no? No, ma senza stare qui a dire segretario, la Lega. Perché se ne sono detti tanti, il segretario ha sbagliato, il direttore generale ha sbagliato. Allora dico io una cosa una volta per tutte, ha sbagliato la società di Isola Liri Calcio. Perfetto. Così una volta per tutte. Tagliamo la testa al Toro e finisce lì. Tagliamo la testa al Toro, anche perché mi sembra riduttivo dare la colpa a un singolo, perché chiunque di noi poteva andare lì a leggere la regola, è vero c'è uno dedicato a leggere le regole e tutto quanto, però insomma ognuno di noi una telefonata qualcosa la poteva fare, quindi è inutile sta a dire la colpa è di uno o di un altro, la colpa è diciamo della società. Tornando alla, diciamo al Terracina, Terracina è un'altra società importante, è un'altra squadra importante, ha giocatori, anche lì domenica è entrato Vano, come è entrato ha creato due pali e golle, ha fatto il gol del 2-0, è vero al novantesimo, ma comunque ha segnato lui, per cui anche lì ha una rosa disposizione il mister. Secondo me è importante, che anche loro reciteranno un'ora importante. Fondi, Fondi sinceramente non la conosco, abbiamo ceduto al Fondi Lomasto la settimana scorsa, Serpico, me ne hanno parlato molto bene che stava lì a isolare, ma per il resto non so che è una squadra di giovani al momento che è stata rinforzata dagli under da parte di qualche squadra professionistica ciociara, per cui questo so, ma del resto non la conosco. Bene, allora noi ci andiamo a vedere questo servizio della vittoria del Terracina. Primi tre punti per il Terracina in questo campionato, dopo la sfortunata prova di domenica scorsa a San Cesario, i ragazzi di Guglielmo Bacci si riscattano dominando in lungo e largo la neopromossa Santa Maria delle Mole, chiudendo con il più classico dei risultati 2-0. Si è giocato, come è noto, al Tasciotti di Sezze per la momentanea, si spera, in disponibilità del Mario Colavolpe, che dovrebbe riaprire battenti il prossimo 6 ottobre. Nuvoli al 33esimo di tempo metteva i brividi al portiere ospite con un colpo di testa che rimbalzava pericolosamente nell'area piccola. Brugnettini si rifugiava in angolo. Al 45esimo era sempre il centrocampista tirrenico a reclamare un eclatante rigore per un intervento da tergo fuori tempo di Fusaroli. Prima del duplice fischio, Vano, subentrato all'infortunato raso, si liberava ma calcia sul fondo. Nella ripresa il Terracina trovava i colpi vincenti. Era il quinto minuto quando Vano, dopo una lunga galoppata, serviva a nuvoli che arrivava con un attimo di ritardo. Al 15esimo punizione pennellata di Marzullo sotto l'incrocio dei pali 1-0. Il gol del Mago dà maggiore tranquillità al Terracina che trovava il raddoppio con nuvoli al 24esimo, ma la rete veniva annullata per un doppio fuorigioco. Il 2-0 portava la firma di Vano che su assist di festa si liberava dell'avversario e con un destro teso non lasciava scampo a Brugnettini. Il Terracina, mercoledì prossimo, sarà impegnato a Torre del Greco contro la Turris per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Di fronte è la squadra allenata dal ciociaro Ezio Castellucci con l'ex bomber di fondi Aprilia e Soda, il polacco Branički. Bene, allora a proposito di partita ricordiamo una cosa che secondo me è importante. L'Olbia comunica che previ accordi con la Lega di Lettanti, il Porto Torres e la redazione di Rai Sport. La gara Olbia-Porto Torres in programma domenica 22 settembre per la quarta di campionato di Serie D si giocherà sabato 21 alle 14 sempre al Brunnespoli di Olbia. Praticamente c'è questo anticipo al sabato per quanto riguarda questo incontro, questo derby appunto tutto sardo. Adesso velocemente andiamo a vedere il prossimo turno, per quanto riguarda il prossimo turno ci sono dei incontri veramente importanti, sia i Solaliri che Sora giocano con le due e Sard. Ecco, stiamo per vedere Arzachena-Terracina, Strea-Olbia, Cinzia-Nova Santa Maria delle Mole, Fondi-Lupa-Roma, Palestrina-Maccareseggiata, Porto Torres-Latte-Dolce, San Cesario-Anzi-Lavigno, Sellarjus-Isola-Liri e Sora-Budoni. Insomma, bellissimi incontri che questo Sellarjus-Isola-Liri, questa squadra sarda sembra che abbia un buon organico, ma anche il Budoni che viene al Tomei di Sora, insomma, sono degli scontri importanti, anche questo Arzachena-Terracina e poi vediamo di che pasta è fatta quest'Olbia che gioca fuori casa contro l'Astrea. Sì, esatto, ci saranno delle verifiche importanti, ma non tralascerei anche Fondi-Lupa-Roma, un'altra partita di cartello, che là già iniziamo anche a capire la forza delle due squadre. Per noi sì, sarà una trasferta importante, una trasferta dove andremo su un campo ostico. E' chiaro, Sora-Budoni sarà la partita, a mio avviso, la partita della domenica, la partita più importante della domenica, per tanti motivi. Uno perché Budoni viaggia spedito, sono due partite e due vittorie, e il Sora che a mio avviso recita un ruolo da protagonista, per cui a mio avviso la partita da seguire con più attenzione. E' chiaro, io seguirò, sarà giusto i suoi liri. Sicuramente il Sora, ecco, come ha fatto vedere nelle prime domeniche, che praticamente gioca un calcio veramente spumeggiante i primi 20-30 minuti e poi abbassa un po' il ritmo. Ma questo è anche forse il discorso della preparazione, di una preparazione che è stata fatta in una certa maniera. Però i primi 20-30 minuti è uno spettacolo veramente vederla, questa squadra giocare. Io ti ripeto, l'ho detto prima, ho fatto i complimenti sia al mister che al direttore. Per me hanno costruito una bellissima squadra. E' chiaro che come noi, come noi d'altronde, stanno pagando il fatto che sono partiti di ritardo. Perché non ci nascondiamo che siamo tutti e due partiti. A fine luglio ancora non sapevamo come e quando partire. Per cui questo è il plauso che va fatto a tutti gli atleti, alla proprietà. Perché la proprietà, se poi ha fatto quello che ha fatto, è grazie a loro. Io volevo farti rispondere, Claudio, a quella persona che ci ha scritto da casa. E se a dicembre siamo lì? Poi vediamo. Non si sbilancia, Luca, perché dice che nel corso suo non pensa solo alla salvezza, ma pensa a qualcosa di più. Io ripeto, per noi sarò monotono, sarò monologo. Però io dirò per sempre questo che noi punteremo a esprimere un bel calcio. Esprimere un bel calcio e ottenere una salvezza tranquilla. E' chiaro che non posso dire se siamo primi, cosa che ci auguriamo tutti, tutti quanti. E' normale che il ritocco viene fatto, no? E' chiaro, ma così come se stai secondo e come se stai terzo. Ma è chiaro che stando in una posizione di comodo, di tranquillo, è chiaro che anche lì vanno fatte le valutazioni del caso. Al momento, sicuramente vanno fatte le valutazioni economiche, di carattere economico. Vanno fatte le valutazioni in andamento, una curva di come sta andando il campionato, le partite che mancano, il girone, il calendario. Sono tante le cose che vanno viste, per cui non me la sento oggi di dire se stiamo. Abbiamo fatto due partite, quattro punti, pensiamo a Selargius. Benissimo, allora prima di chiudere la nostra trasmissione, ricordiamo che domani c'è il ritorno della Coppa Italia, i 31esimi di finale, è una gara unica, andiamo a vedere un po' lo schema delle squadre che giocheranno. Domani si giocherà alle 15 Selargius, Latte Dolce, San Cesario, Lupa Roma e Astrea Palestrina. Alle 16.30 si giocherà Turris-Terracina. Il Terracina giocherà con la vincente tra Astrea e Palestrina. Io, Luca, ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Avremo modo anche durante l'anno di rivederci nuovamente qui e di parlare dell'Isola Liri, ma soprattutto di parlare di questo campionato molto avvincente e molto bello quest'anno, perché ci sono delle ottime squadre, un campionato molto tirato e speriamo che le squadre della nostra zona riescano a stare lì in classifica, parlo del Sora, parlo di Isola Liri, parlo del Fondi, parlo del Terracina, insomma anche le squadre romane, per andarcela a giocare con le squadre Sard, che secondo me quest'anno ci daranno veramente filo da torcere. Io ringrazio voi e mi auguro che la nostra squadra vada nel miglior modo possibile in questo campionato. Grazie Luga e noi ci vediamo la settimana prossima sempre intorno alle 22.15 martedì per un'altra puntata di Bordocambo Serie D. Buonanotte.